zola lettera alla francia pubblicata sull'opuscolo messo in vendita il 6 gennaio 1898 era il secondo della serie e contavo sul fatto che la serie sarebbe stata lunga mi trovavo benissimo con questo tipo di pubblicazione che impegnava me soltanto lasciandomi tutta la libertà e la responsabilità inoltre non ero più costretto entro le dimensioni ridotte di un articolo di giornale e che mi dava la possibilità di dilungarmi gli avvenimenti erano in cammino e io li aspettavo risoluto da quel momento a dire tutto a lottare fino alla fine perché la verità risplendesse e venisse fatta giustizia nei giorni orribili di disordine morale che attraversiamo nel momento in cui la coscienza pubblica sembra oscurarsi è a te che mi rivolgo francia alla nazione alla patria ogni mattina leggendo sui giornali quello che tu sembri pensare di questo deplorevole caso tra i fii il mio stupore aumenta la mia ragione più che mai si ribella ma sei proprio tu francia a lasciarti convincere dalle menzogne più palesi a metterti con la turba dei malfattori contro pochi calantuomini a lasciarti sconvolgere dal pretesto idiota che ti si voglia insultare il tuo esercito e si complotti di venderti al nemico quando all'opposto è desiderio dei tuoi figli più saggi e più leali che tu rimanga agli occhi dell'europa attenta la nazione dell'onore la nazione dell'umanità della verità e della giustizia è davvero la grande massa lo crede soprattutto quella dei modesti e degli umili la popolazione delle città quasi tutta la provincia e tutte le campagne quella considerevole maggioranza che accetta l'opinione dei giornali e quella dei vicini che non ha né il modo di documentarsi né quello di riflettere che cosa è mai successo francia e come ha potuto il tuo popolo il tuo popolo di buon cuore di buon senso farsi cogliere da questa ferocia della paura da queste tenebre dell'intolleranza al tuo popolo dicono che un uomo forse innocente è in preda alla peggiore delle torture che ci sono prove materiali e morali per cui si impone la revisione del processo ed esso rifiuta violentemente la luce si schiera dietro i settari e i banditi dietro quelli che hanno interesse a lasciare a terra il cadavere questo popolo che soltanto poco tempo fa avrebbe demolito ancora una volta la bastiglia pur di farne uscire un prigioniero che angoscia e che tristezza francia nell'animo di chi ti ama di chi vuole il tuo onore e la tua grandezza michino angustiato sul mare cupo e sconvolto di questo tuo popolo mi chiedo dove siano le cause della tempesta che minaccia di distruggere il meglio della tua gloria non c'è niente di più mortalmente grave e io vi leggo sintomi inquietanti e oserò dire tutto poiché nella mia vita non ho avuto che una sola passione la verità e qui non faccio che continuare la mia opera ti rendi conto che il pericolo è proprio in queste tenebre ostinate dell'opinione pubblica cento giornali ripetono quotidianamente che l'opinione pubblica non vuole che Dreyfus sia innocente che la sua colpevolezza è necessaria alla salute della patria e sai fino a che punto saresti colpevole se in alto loco si autorizzasse un sofisma del genere per soffocare la verità sarà la francia ad averlo voluto sarai tu ad avere preteso il crimine e che grande responsabilità ogni giorno ecco perché in quest'ora grave francia quelli dei tuoi figli che ti amano e ti onorano hanno un solo dovere ardente il dovere di agire con forza sull'opinione pubblica di illuminarla di ricondurla di trarla dall'errore in cui la spingono cieche passioni e non c'è impresa più utile più santa sì con tutta la mia forza io parlerò loro agli oscuri agli umili a quanti vengono avvelenati e fatti delirare è la sola missione in cui mi impegno griderò loro dove è veramente l'anima della patria la sua energia è invincibile il suo sicuro trionfo esaminiamo la situazione è stato fatto un altro passo il comandante esterasi è stato deferito a un tribunale militare come ho detto fin dal primo giorno la verità è in cammino e niente può fermarla nonostante le cattive volontà ogni passo avanti sarà fatto matematicamente a tempo giusto la verità ha in sé una potenza che travolge tutti gli ostacoli e quando le si sbarra il cammino e si riesce a tenerla più o meno a lungo sotterrata vi si ammassa prende una tale violenza di esplosione che il giorno in cui esplode fa saltare tutto tentate questa volta dimurarla per qualche mese ancora sotto le menzogne o un procedimento a porte chiuse e poi vedrete se non vi state preparando per più tardi un disastro dei più clamorosi però man mano che la verità avanza le bugie si accumulano per negare il suo cammino niente di più significativo quando il generale de pelieux incaricato dell'inchiesta preliminare depositò il suo rapporto che concludeva ammettendo la possibile colpevolezza del comandante esterasi la stampa ignobile inventò che unicamente per volontà di quest'ultimo il generale saussier pur esitando convinto com'era della sua innocenza si adattò per fargli piacere a deferirlo alla giustizia militare oggi è ancora meglio i giornali raccontano che poiché tre esperti avevano nuovamente riconosciuto il bordero come opera certa di draifi il comandante ravari nella sua inchiesta giudiziaria era approdato di necessità a un non luogo a procedere e che se il comandante esterasi sarebbe finito davanti a un tribunale militare era perché aveva forzato di nuovo la mano al generale saussier esigendo se non altro dei giudici tutto ciò è di una comicità irresistibile e di una idiozia totale ve lo figurate l'accusato che dirige il caso dettando gli arresti ve lo figurate un uomo riconosciuto innocente dopo avendo inchieste e per il quale ci si prende la briga non indifferente di riunire un tribunale al solo fine di recitare una commedia decorativa una sorta da pote oggi giudiziaria e qui verrebbe ne più ne meno a farsi beffe della giustizia dal momento che si afferma che il prosoglimento è certo perché la giustizia non è fatta per giudicare gli innocenti e occorre perlomeno che il giudizio non venga redatto dietro le quinte prima ancora che si apra il dibattimento visto che il comandante esterasi è deferito a un tribunale militare auguriamoci per il nostro onore nazionale che sia una cosa seria e non una semplice messa in scena destinata a divertire gli allocchi mia povera francia a tal punto ti credono stupida da raccontarti storie come queste che non stanno né in cielo né in terra e ad ogni modo non tutto è menzogna nelle informazioni che la stampa ignobile pubblica e che dovrebbero bastare ad aprirti gli occhi da parte mia mi rifiuto formalmente di credere ai tre esperti che non avrebbero riconosciuto a colpo d'occhio l'assoluta identità tra la grafia del comandante esterasi e quella del borderò prendete il primo bambino che passa per strada fatelo salire mostrategli due fogli e vi risponderà è lo stesso signore che ha scritto queste due pagine non c'è bisogno di esperti può stabilirlo a chiunque la rassomiglianza di certe parole salta agli occhi ed è talmente vero che il comandante ha ammesso questa incredibile rassomiglianza e per spiegarla asserisce che siano state ricaricate diverse sue lettere tutta una storia di una complicazione laboriosa l'altronde assolutamente puerile di cui la stampa si è occupata per settimane e vengono a raccontarci di essersi rivolti a tre esperti per dichiarare di nuovo che il borderò è proprio di pugno di dry fuss e no è troppo troppa sfrontatezza sta diventando goffaggine le persone oneste finiranno per irritarsi spero certi giornali arrivano al punto di dire che quel borderò sarà messo da parte che in tribunale non se ne discuterà neppure di che cosa si discuterà di grazia e perché il tribunale si riunirà in seduta il nodo del caso è tutto lì se dry few è stato condannato per un documento scritto da un altro e che basta far condannare questo altro la revisione si impone con logica irresistibile perché non ci possono essere due colpevoli condannati per lo stesso crimine de mange l'ha ripetuto formalmente soltanto quel borderò gli è stato presentato dry few è stato legalmente condannato unicamente in base a quel borderò eppure ammettendo che in disprezzo di ogni legalità esistano documenti tenuti segreti cose che personalmente non riesco a credere chi oserebbe opporsi alla revisione qualora venisse dimostrato che il borderò la sola prova conosciuta ammessa è di mano di un altro ed ecco perché vengono accumulate tante menzogne attorno al borderò che in conclusione è il nocciolo dell'intero caso ecco un primo punto da sottolineare l'opinione pubblica è fatta in gran parte di queste menzogne di queste storie incredibili e stupide che la stampa divulga ogni mattina l'ora della responsabilità verrà e bisognerà regolare i conti con questa stampa ignobile che ci disonora agli occhi del mondo intero alcuni giornali svolgono la loro solita attività non hanno mai diffuso altro che melma ma tra questi che stupore che tristezza nel trovare per esempio un giornale letterario come le code pari così spesso all'avanguardia delle idee e che nel caso dreyfus si assume una parte così incresciosa le note di una violenza di un partito preso scandaloso non sono firmate si dice che siano ispirate da quegli stessi che hanno avuto la disastrosa balordazzine di far condannare dreyfus il signor valentin simond dubita forse che se ricoprano il suo giornale di obbrobrio e c'è un altro giornale di cui atteggiamento dovrebbe destare l'indignazione di tutta la gente onesta e mi riferisco alle petit journal che i giornalazzi che tirano qualche migliaio di copie urlino e mentiscano per far aumentare la tiratura si può anche capire e in fondo il danno è piuttosto limitato ma che le petit journal che tira più di un milione di copie che si rivolge agli umili che penetra dappertutto semini l'errore sviluppi non è pubblica è veramente di una gravità eccezionale quando si ha una simile cura d'anime quando si è il pastore di tutto il popolo si deve essere di una probità intellettuale scrupolosa pena al macchiarsi di un crimine civico ed ecco francia che cosa trovo prima di tutto nella democrazia della quale sei preda la menzogna della stampa il regime di storie insulse di basse ingiurie di perversioni morali alla quale essa ti sottopone ogni mattina come potresti mai volere la verità e la giustizia se c'è chi avvelena fino a questo punto tutte le tue virtù leggendarie la limpidezza della tua intelligenza e la solidità della tua ragione ma si sono fatti ancora più gravi tutto un insieme di sintomi che nella crisi che attraversi sono oggetto di una lezione terrificante per quelli che sanno vedere e giudicare in caso Dreyfus è solo un incidente deplorevole la testimonianza terribile è il modo in cui tu ti comporti in questa avventura uno ha l'aria sana ed in profisio appaiono piccole macchie sulla sua pelle in lui c'è la morte tutto uno stato di avvelenamento politico e sociale si è reso manifesto sul tuo volto perché hai lasciato gridare e hai finito per gridare tu stessa che il tuo esercito veniva insultato quando al contrario ardenti patrioti volevano soltanto la sua dignità e il suo onore il tuo esercito ma oggi sei tu tutta intera non si tratta di questo o quel capo di questo o quel corpo di ufficiali di questa o quella gerarchia gallonata sono tutti i tuoi figli pronti a difendere il suolo francese hai l'esame di coscienza era davvero il tuo esercito che volevi difendere anche se nessuno lo aggrediva non era piuttosto l'uniforme che sentivi il bisogno di improvviso di acclamare per conto mio nella rumorosa ovazione fatta ai capi che si diceva fossero stati insultati vedo un risveglio senza dubbio inconsapevole del bulancismo latente da cui sei tuttora colpita in fondo non hai ancora il sangue repubblicano i pennacchi che passano ti fanno battere il cuore non può venire un re senza che tu te ne innamori il tuo esercito ebbene sì a quello non pensi mai è il generale che vuoi nel tuo letto e quanto è lontano il caso draifu mentre il generale migliò si faceva acclamare alla camera vedevo l'ombra della spada disegnarsi sul muro francia se non stai attenta ti aspetta la dittatura e sai cos'altro ti aspetta francia ti aspetta il dominio della chiesa ritornerai al passato a quel passato di intolleranza e di teocrazia che i più illustri tra i tuoi figli hanno combattuto hanno creduto di uccidere donando la loro intelligenza e il loro sangue oggi la tattica dell'antisemitismo è molto semplice in vano il cattolicesimo si sforzava di agire sulla popolazione creava circoli di operai moltiplicava i pellegrinaggi tentava di riconquistarla di ricondurla ai piedi degli altari era una cosa definitiva le chiese restavano deserte la gente non ci credeva più ed ecco che alcune circostanze hanno permesso di ispirare al popolo la rabbia antisemitica lo si avvelena con questo fanatismo lo si lancia per le strade a gridare abbasso gli ebrei a morte gli ebrei quale trionfo se fosse possibile scatenare una guerra religiosa certo il popolo continua a non credere più ma ricominciare con l'intolleranza del medioevo bruciare gli ebrei sulla pubblica piazza non è forse inizio del credo religioso ecco dunque che il veleno è stato trovato e una volta riusciti a fare del popolo di francia un fanatico e un carnefice una volta riusciti a strappargli dal cuore la sua generosità il suo amore per i diritti dell'uomo così duramente conquistati dio farà sicuramente il resto c'è chi ha l'audacia di negare la reazione clericale ma è dappertutto esplode nella politica nelle arti nella stampa per le strade oggi perseguitiamo gli ebrei domani sarà la volta dei protestanti e la campagna è già cominciata la repubblica è in fase da reazionari di ogni genere che l'adorano di un amore repentino e terribile che l'abbracciano per soffocarla a ogni lato si sente dire che l'idea di libertà ha fatto bancarotta e appena si è presentato il caso dry fish questo odio crescente della libertà ci ha trovato un'occasione straordinaria le passioni hanno cominciato a divampare perfino negli indifferenti non capite che se si sono scagliati su schoi red kestner con tanto furore è perché appartiene a una generazione che ha creduto nella libertà che ha voluto la libertà oggi si usa alzare le spalle farsene beffe vecchi barbogi uomini d'altri tempi la sua sconfitta consumerebbe la rovina della repubblica di quelli che sono morti di quelli che si è tentato di seppellire nella melma hanno abbattuto il potere militare sono usciti dalla chiesa ed ecco perché quel gran galantuomo di schoi red kestner è stato bandito bisogna annegarlo nella vergogna perché la repubblica stessa venga insozzata e spazzata via poi ecco che d'altro lato il caso dry fish mostra in piena luce l'ambigua pastetta del parlamentarismo il che lo disonora e lo ucciderà il caso per sua sfortuna capita alla fine di una legislatura quando restano solo tre o quattro mesi per sofisticare la legislatura successiva il governo al potere vuole naturalmente arrivare alle elezioni e con altrettanta energia i deputati vogliono farsi rieleggere allora piuttosto che allentare la presa sui portafogli piuttosto che compromettere le probabilità ad essere rieletti sono tutti risoluti ad arrivare agli estremi neanche il naufrago si tiene così disperatamente attaccato alla tavola della sua salvezza ed è tutto lì tutto si spiega da una parte l'atteggiamento inusitato del governo a proposito del caso dry fish il suo silenzio il suo imbarazzo la cattiva azione che esso commette nel lasciare agonizzare il paese sotto l'impostura mentre era stato incaricato di accertare direttamente la verità dall'altra il disinteresse così poco valoroso dei deputati che si riescono di non saperne niente che hanno una sola paura quella di compromettere la loro rielezione alienandosi il popolo che credono antisemita non si sente dire ovunque ah se fossero state fatte le elezioni vedreste il governo e il parlamento regolare la questione dry fish in 24 ore ed ecco che cosa la vile pastetta del parlamentarismo riesce a fare di un grande popolo franza di questo dunque è fatta tuttora la tua opinione del bisogno del bastone della reazione clericale che ti riporta indietro di parecchi secoli dell'ambizione vorace di quelli che ti governano che ti mangiano e che non vogliono alzarsi da tavola te ne scongiuro franza sì di nuovo la grande franza ritorna in te ritrova te stessa due avventure nefaste sono entrambe opera dell'antisemitismo panama è il caso dry fish ricordati con quali delazioni con quali pettegolezzi abominevoli con quali pubblicazioni di documenti falsi rubati la stampa ignobile ha fatto di panama un'ulcera orrenda chi ha corroso e debilitato il paese per anni era riuscita a sconvolgere la pubblica opinione l'intera nazione pervertita ubriaca di veleno vedeva rosso esisteva spiegazioni chiedeva l'esecuzione in massa del parlamento perché era marcio se arton tornasse se parlasse è tornato ha parlato e tutte le menzogne della stampa ignobile sono crollate a un punto tale che l'opinione pubblica bruscamente ribaltata non ha più voluto sospettare di nessuno e ha preteso la soluzione in massa certo sono ben convinto che non tutte le coscienze fossero proprio candide perché sarà accaduto in quel caso quello che accade in tutti i parlamenti del mondo quando imprese gigantesche comportano spostamenti di milioni ma alla fine l'opinione pubblica era presa dalla nausea dell'ignobile troppa gente era stata insozzata troppa viene era stata denunciata e ora prova il bisogno di un bagno nell'aria pura di credere all'innocenza di tutti ebbene lo predico sarà così anche per il caso Dreyfus l'altro crimine sociale dell'antisemitismo di nuovo la stampa ignobile satura l'opinione pubblica di troppe menzogne e di troppe infamie eccede nel volere che gli onesti siano dei furfanti e che i furfanti siano gente onesta diffonde troppe storie imbecilli alle quali i bambini stessi finiscono per non credere più si attira troppe smentite va troppo contro il buonsenso e contro la semplice probità è fatale un bel mattino l'opinione pubblica finirà per ribellarsi avrà un brusco conato di vomito per essere stata troppo nutrita di fango e come per panama la vedrete per il caso Dreyfus far valere tutto il suo peso volere che non ci siano più traditori esigere la verità e la giustizia in un'esplosione di generosità sovrana l'antisemitismo sarà così condannato in base alle sue opere le due mortali avventure in cui il paese ha perso indignità e in salute ecco perché franza ti supplico di tornare in te devi trovare te stessa senza aspettare oltre dirti la verità non è possibile poiché la giustizia sta facendo il suo regolare corso ed è nostro dovere credere che si sia decisa ad accertarla la parola spetta unicamente ai giudici il dovere di parlare si imporrebbe solo nel caso in cui non l'accertassero fino in fondo ma questa verità non è così semplice un errore dapprima poi tutte le colpe per nasconderlo tu proprio non la sospetti i fatti hanno parlato talmente chiaro ogni frase dell'inchiesta è stata una confessione il comandante sterasi coperto da protezioni inspiegabili il colonnello picard trattato da colpevole colmato di oltraggi i ministri che giocavano con le parole i giornali ufficiali che mentivano violentemente l'istruttoria preliminare condotta a tentoni di una lentezza esasperante non ti pare che in tutto questo ci sia puzza di bruciato lezzo di cadavere e che debbano proprio esserci molte cose da nascondere perché ci si lasci difendere così apertamente da tutta la teppaglia di parigi quando ci sono galantuomini che pretendono sia fatta luce a prezzo della loro tranquillità svegliati franza pensa alla tua gloria com'è possibile che la tua borghesia liberale che il tuo popolo emancipato non vedano in questa crisi a quale aberrazione vengono spinti non posso crederli complici allora sono creduloni perché non si rendono conto di quello che c'è dietro da una parte la dittatura militare dall'altra la reazione clericale è questo che vuoi franza la messa in pericolo di tutto ciò che hai pagato così a caro prezzo la tolleranza religiosa la giustizia uguale per tutti la solidarietà fraterna di tutti i cittadini è sufficiente che ci siano dei dubbi sulla colpevolezza di dryfield e che tu lo abbandoni alla sua tortura perché la tua gloriosa conquista del diritto e della libertà sia compromessa per sempre come rimarremmo un pugno ad uomini appena a dire queste cose di tutti i tuoi figli onesti di tutti gli spiriti liberi di tutti i grandi cuori che hanno fondato la repubblica e che dovrebbero tremare vedendola in pericolo nessuno si leverà per unirsi a noi è a loro francia che io faccio appello che si raggruppino che scrivano che parlino che lavorino con noi a illuminare l'opinione pubblica gli oscuri gli umili quelli che vengono avvelenati e indotti a delirare anima della patria la sua energia il suo trionfo sono unicamente nell'equità e nella generosità la mia sola inquietudine è che la luce non venga fatta fino in fondo e subito dopo un'istruttoria segreta un'istruttoria a porte chiuse non metterebbe fine a niente soltanto allora il caso comincerebbe perché bisognerebbe ben parlare visto che tacere qui varrebbe a rendersi complici che pazzia illudersi che si possa impedire alla storia di venire scritta sarà scritta questa storia e non c'è responsabilità per scarsa che sia che non verrà pagata e sarà così per la tua gloria finale francia perché in fondo io non ho timori io so che si avrà un bel attentare alla tua ragione alla tua integrità tu sei malgrado tutto l'avvenire tu avrai sempre risvegli trionfanti di verità e di giustizia nel 1899 il giudizio contro dryfus fu annullato grazie a tutti grazie a tutti